A poco più di tre mesi dalle elezioni a Fara Sabina è il territorio pullula di cittadini che hanno voglia di dire la loro. Notizia recente di questi giorni è la fondazione di una nuova associazione chiamata Fara Dimenticata che ha appunto da rivendicare una serie di importanti proposte per il territorio. Andiamoli a conoscerli qui a Canneto in occasione di un loro incontro cittadino. Ci siamo riuniti in questo comitato, in questa formazione che ha ancora una fase di avvio perché stiamo constatando un disagio, specie nella parte più alta del comune, quella che attiene alle frazioni della parte più montana. Disagio che deriva dall'aver constatato una disattenzione, una scarsa cura delle esigenze sociali, infrastrutturali, comunque della vita di tutti i giorni. Vengono incontro a noi delle sfide non da poco, vista l'evoluzione che stiamo vivendo, sia sociale, sia politica, sia culturale. E per questo abbiamo deciso di incontrarci nelle frazioni che compongono il comune. Fino adesso ci siamo visti a Coltodino, a Talocci, qui a Canneto. E devo dire con un considerevole successo che non aspettavamo, non credevamo, proprio perché le persone sentono la necessità di contribuire fattivamente e in maniera primaria alle scelte che poi ovviamente ricadono e riverberano sulla vita di tutti quanti i giorni. Proseguiremo, incontreremo Prime Case, incontreremo Borgo Quinzio, Correse Terra, e questo per raccogliere le problematiche, le difficoltà. E da queste trarne un programma, un programma che poi potrà essere convertito in un'azione eventualmente a più ampio respiro, forse anche politica. Oltre a questi incontri, i cittadini come potranno dialogare con voi? Ecco, noi aspettiamo appunto che oltre alle persone che già hanno aderito ci siano ovviamente altre figure che vogliano far parte e accrescano la compagine che al momento è fatta appunto da tutte le persone che fino adesso abbiamo incontrato. Abbiamo un portale, un piccolo sito su Facebook, ovviamente ci stiamo organizzando perché ci siano le forme più adeguate e semplici di comunicazione fra tutte le persone che hanno interesse e vogliano, come dire, rimboccarsi veramente le maniche e mettersi a lavorare con noi.